Anche quest'anno la Sala Ridotto del Mercadante presenta un programma di spettacoli e di allestimenti all'insegna della ricerca di nuove forme sceniche che lo confermano come lo spazio del teatro stabile destinato alle giovani compagnie e alle nuove generazioni di registi e di autori. Da dicembre 2015 a maggio 2016 un cartellone di 10 spettacoli proporrà al pubblico un'interessante partitura di testi di nuova drammaturgia e di riadattamenti con titoli come quell'ultima parata scritto e diretto da Fabrizio Bancale in scena dall'1 al 6 dicembre di apertura del cartellone. Ai nostri microfoni il direttore Luca De Fusco. Siamo diventati teatro nazionale e abbiamo quindi il dovere e diritto di produrre di più. C'è come sempre un omaggio alla narrativa napoletana del dopoguerra con il resto di niente, il bellissimo romanzo estriano ma la novità vera è che c'è tanta drammaturgia contemporanea, testi scritti oggi, ieri, freschi di scrittura e che vengono messi in scena. Quindi una programmazione giovane per chi la fa e per credità aperta a tutti ma in particolare per un pubblico giovanile che ama testi freschi, svelti, di breve durata. Altri titoli interessanti, The Open Game, Lost Land, La Reggente, Italia-Svezia 2 a 2, il giorno della laurea e La Signorina Else. A completare la programmazione della sala al primo piano del mercadante tra febbraio e aprile la quarta edizione del progetto prodotto dallo Stabile su teatro e letteratura di allestimenti scenici tratte da opere di scrittori napoletani dal Novecento ad oggi dopo quelli dedicati a Nanna Maria Ortese, Raffaele La Capria, Giuseppe Patroni-Griffi, l'autore al centro del nuovo ciclo e Enzo Striano dal quale sono proposti su riduzione e adattamento drammaturgico di Maurizio Braucci tre lavori del suo Il resto di niente, il romanzo dell'86 e della vita di Leonora De Fonseca Pimentel sullo sfondo della rivoluzione napoletana del 1799.